6 miliardi e mezzo di euro, tanto ammonta il bilancio provinciale 2021, approvato dal Consiglio della provincia autonoma di Bolzano. Il documento, varato insieme alla legge di stabilità che prevede fondi per la contrattazione collettiva in ambito sanitario e scolastico e dispone la possibilità di adeguare le norme nazionali anticontaggio alla particolarità provinciale, era accompagnato da disposizioni collegate. Queste riguardano tra l'altro l'assunzione del personale insegnante, il trasferimento, l'azienda sanitaria delle competenze sui relativi progetti edilizi, strumenti per il rilancio dell'economia. Alla somma bilancio, ha detto il presidente Compatcher, si aggiungeranno i fondi del Recovery Fund, per accedere al quale sono già stati individuati 45 progetti di sostenibilità per 2 miliardi e 300 milioni di euro. La Giunta ha colto 5 ordini del giorno, uno di SVP, Lega Salvini, Alto Adige, Suttire e Alto Adige Autonomia, per rimborsare al personale scolastico gli acquisti di strumenti informatici, due dei Freyheitlichen per voucher sociali e risanamento della ferrovia pusterese, uno del Gruppo Verde, affinché fossero spiegate le maggiori entrate di 300 milioni, uno del Team K per la promozione della salute di sanitari e personale assistenziale. Le tre leggi sono state approvate con 19 voti a favore della maggioranza, contrarie alla Suitroller Freyheit, critica sull'impossibilità delle visite oltre confine e le ingerenze dello Stato. Il Gruppo Verde, che ha abiasimato il calo delle risorse per il sociale, scuola e ambiente, e chiesto più attenzione alla sanità pubblica. I Freyheitlichen, che hanno rilevato i limiti dell'autonomia. Enzian, che ha definito un'offesa ai soli 26 milioni all'economia. Tim K, che ha invitato a fare una vera spending review. Partito Democratico Liste Civiche, che ha chiesto più attenzione per le città. Alto Adige nel cuore, Fratelli d'Italia, ha lamentato la mancanza di ristori e del bonus docenti. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto maggiore digitalizzazione e ha criticato l'ingerenza delle lobby. Al contrario, Alto Adige Autonomia ha rilevato il buon lavoro della maggioranza, sollecitando a restare autonomi da Roma. La Lega Salvini-Alto Adige-Sutirol ha ritenuto le decisioni prese a livello provinciale più efficienti di quelle statali. La SVP, respingendo le critiche di scarso parlamentarismo, ha evidenziato che il bilancio è solido e permette di guardare al futuro. Il Presidente della provincia Compaccer ha concluso invitando alla coesione nei prossimi mesi, che saranno ancora difficili. Grazie a tutti.